Roma, 22 giugno 1983. Sono le 10, non abbiamo notizie ed Emanuela l'aspettavamo percino a casa. Una storia che da oltre 30 anni aspettava di essere raccontata. Renatino ci ha finito con tutte le scarpe dentro la sua storia dell'Orlandi. Lei ha già sentito parlare dello scandalo mafia capitale di Massimo Carminati, detto il ciecato, vero? Nel paese delle menzogne, per arrivare alla verità, bisogna incontrare molti, molti bugiarti. Per il ciclo così italiani, in prima visione assoluta, la verità sta in cielo. Questa sera, 21 e 15, Rai 3.